Beato Enrico il calzolaio Trapassato nel 1666, Enrico Michel Busch, chiamato il buon Enrico, era nativo dell'Hussemburgo e di professione calzolaio. È solitamente chiamato santo o beato, ma non vi sono prove che sia stato mai oggetto di culto. Commento Per la legge, ciò che faceva oggetto di culto Enrico il calzolaio era la sua bontà. Per la legge, ciò che faceva oggetto di culto Enrico il calzolaio. Per la legge, ciò che faceva oggetto di culto Enrico il calzolaio. Per la legge, ciò che faceva oggetto di culto Enrico il calzolaio.